Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming. In questo video vi spiegherò come attivare o disattivare i programmi dall'esecuzione automatica all'accensione di Windows. In altre parole, con questa guida potete impedire a software di avviarsi o meno all'avvio del sistema operativo. La procedura è davvero molto semplice. Naturalmente varia a seconda della versione del sistema operativo che avete. Se avete Windows 7 si fa in un modo, se avete Windows 10 si fa in un altro. In questo video vi spiegherò il metodo con Windows 10. Andate nelle gestioni attività. Quindi o fate CTRL ALT cancio sulla tastiera e poi gestione attività, o tasto destro sulla barra sottostante e cliccate su gestione attività. Qui andate su avvio e da qui potete attivare o meno i programmi che volete, che vengono eseguiti automaticamente all'accensione del sistema operativo. Ad esempio, se volete che il GOG Galaxy parte automaticamente con il sistema operativo quando accendete il computer, cliccate su abilità. Se invece volete disattivarlo, quindi diciamo volete avviarlo poi voi manualmente, cliccate su disabilità. La procedura è davvero molto semplice. Naturalmente necessita del riavvio del computer. Una volta che riavviate il computer, al successivo riavvio tutti i software che voi avete disattivato non partiranno più. Dovrete avviarli voi manualmente. Tutti i software invece che saranno attivi partiranno automaticamente con l'avvio del sistema operativo.